Ciao, sono Manuel Strali, faccio da tantissimo tempo il grafico pubblicitario, da molto più tempo bazzico nel dungeon dei giochi di ruolo e dei board games. Uno dei compiti principali di cui mi sono preso carico è stato quello di creare la plancia di gioco e le tessere, questo è stato realizzato fondamentalmente cercando di trasporre la mappa di un dungeon vecchio stile, quello della scatola rossa di Dungeons & Dragons per intenderci, su una grata esagonale e poi di frazionarlo in tanti piccoli pezzi, quelli che poi saranno le stanze e i corridoi del gioco. Insieme ai miei colleghi del gruppo T-NAT abbiamo stabilito un pantheon da cui trarre ispirazione grafica e che affonda le radici nei giochi da tavolo e anche videogame degli anni 80 e 90. Quindi le influenze dei games degli ultimi anni 80 e primi 90 unite a una grafica tipicamente contemporanea, vi potrei ricordare quella del cartone animato Adventure Time, se vi piacciono i giochi gestionali, se vi piace l'idea di costruire un dungeon, questo gioco può fare per voi, quindi vi chiedo di supportarci e buon divertimento.